ho digitato greenwashing su google ed è uscito un articolo sul pandoro della ferragni che c'entra così mi chiede una persona che mi segue vediamo subito le carte sanzione di oltre un milione alle società riconducibili a chiara ferragni e di 420 mila euro a balocco per pratica commerciale scorretta così scrive l'autorità garante della concorrenza e del mercato secondo la quale le suddette società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro griffato ferragni avrebbero contribuito ad una donazione all'ospedale regina margherita di torino integrando in questo modo una pratica commerciale scorretta connotata da elementi di ingannevolezza ai sensi di una serie di norme del codice del consumo a questo si aggiunga che la procura di milano ha aperto un fascicolo a carico della stessa ferragni e di altri per il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa ai danni dei consumatori ora tutto questo non è greenwashing è un suo fratello che potremmo definire charity washing o social washing oppure pink washing dal colore del pandoro in questione in due parole un'azienda si fa bella vantando per un suo servizio o per un suo prodotto qualità che in realtà non ha siano esse di natura ambientale o di natura sociale come in questo caso alla prossima